Juventus-Frosinone 3-2, Rugani segna il 95esimo minuto e Allegri trova la prima vittoria in 5 partite. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Un gol di Daniele Rugani nella 95esima partita regala la vittoria alla Juventus, che prevale sul Frosinone 3-2 al termine di una partita spettacolare e combattuta fino all'ultimo. Dopo soli tre minuti i bianconeri hanno preso il comando con Dusan Vlaovic, assistito da Weston e M.C. Kenye. Le Canarie hanno recensito il risultato con Walid Kedira il 14 e Marco Brescianini il 27. Il giorno 32 pareggio di squadra di Massimiliano Allegri, sempre con Vlaovic nel passaggio di M.C. Kenye. In recupero il gol del difensore bianconero che decide la partita. La Juventus sale a 57 punti, rimane seconda, riapre la gara di campionato e trova la sua prima vittoria in 5 partite. Il Frosinone è l'ultimo con 23 anni, a pari merito con l'Udinese e tre lunghezze sopra Sassuolo, Verona e Cagliari. La Juventus ha subito preso il comando dopo soli tre minuti. M.C. Kenye ha iniziato un cross, Vlaovic ha colpito con la destra e ha segnato. Il 14 la reazione di Frosinone, assistenza dalla destra di Zortea, Kedira in elevazione corona la testa, il tiro è centrale ma potente e va in porta. Una dozzina di minuti dopo, M.C. Kenye tenta il completamento, ma la difesa dell'ospite respinge di testa. Sui tumultuosi sviluppi nella zona delle Canarie, Bremer ha gettato ma palla sopra la barra. Nel ventisettesimo fallo sul lato del Frosinone, l'ex Inza Valeri pesca profonda Brescianini che, stretto tra Costic e Rugani, entra in zona e trivella Scesni, i ciociari ribaltano il risultato. Nella 32esima Juventus in attacco a destra, cambia sommette in mezzo per M.C. Kenye che a sua volta gioca in area per Vlaovic, mancino e nuovamente marcatore. Squadre nello spogliatoio a 2-2 dopo un primo tempo equilibrato e spettacolare. Nella frazione finale, la Juventus prova ad avanzare, ma la difesa del Frosinone resiste alla pressione. All'inizio del secondo tempo, un calcio d'angolo per la squadra di Allegri da sinistra, toccano prima un difensore dei Canarini, poi Vlaovic e Il. All'inizio del secondo tempo, un calcio d'angolo per la squadra di Allegri da sinistra, ma la difesa del Frosinone, poi Vlaovic e Il.